L'antica fiamma, romanzo storico, venite con me, vi porto alla scoperta della vera storia di Bianca Maria, Contessa Richallant. Il ritrovamento di alcuni diari perduti porta alla luce la vera storia di Bianca Maria, Contessa Richallant e l'oscura maledizione riversatasi sul cassello di sogni. Misteri e complotti nascosti tra vecchie pagine antichi e freschi ci conducono nel primo Cinquecento in un mondo ancora soggettato alle credenze e alla religione, diviso dalle guerre tra Francia e Impero. Un viaggio tra passato e presente tra le terre di Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia si rivelerà un viaggio spirituale nella terra più buia, l'ombra dell'animo umano. Forse perciò ero destinata a sentire i draghi di sogni, a spingermi fino a ovvero nascosti i diari. Le parole di Dante e Virgilio hanno unito Bianca e me, tenendoci strette ai confini di cinquecento di Valle d'Aosta, Piemonte e l'ombra dell'animo umano. Grazie a tutti. Grazie a tutti.